ora si comincia a fare sul serio anzi per meglio dire bisogna continuare a fare sul serio come abbiamo fatto fino ad oggi ragazzi per chi volesse sostenere il canale degli esonerati basta un semplice clic gratis ed attivate tutte le campanelline iscrizione gratis e campanellina a breve ci saranno anche con Effenberg incomincerà un format che durerà eh sarà suddiviso in quattro parti quindi saranno quattro live su Calciopoli perché per motivi suoi Effenberg su Calciopoli sa qualsiasi cosa quindi eh abbiamo anche le carte abbiamo tutto almeno vogliamo spiegare anche meglio cosa successe a Calciopoli anche se ormai tutti di noi lo sappiamo io dove i cinesi e te lo ripeto non lo so nemmeno lo voglio sapere non mi interessa sono il primo a riconoscere che debito paga debito ormai non può più funzionare siamo stati i primi anche ad essere offesi quando tutti parlavano di Rozzano a dire che l'Inter avrebbe fatto di tutto per rimanere a San Siro come Giuse ci sono i video almeno tre su San Siro fatti cinque sei mesi fa le live come a capienza ridotta come ha fatto il Real Madrid perché dicevo questo perché in quel progetto di ristrutturazione c'è una persona che conosco ecco perché dicevo queste cose qua molto semplice perché quando sembrava fatto tutto a Rozzano io ti ho sempre detto guarda che l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro è solo un gioco tra le parti e ora parlano tutti di ristrutturazione a San Siro o addirittura chi ha parlato di Rozzano fino a ieri vuole far sembrare che ora sia stato il primo a parlare di ristrutturazione ma non è vero perché ci sono le prove ci sono i video registrati c'è tutto anche se ognuno ragazzi è libero di dire di fare ciò che vuole quindi vi ricordo di iscrivervi al canale gratis di attivare la campanellina è molto importante l'iscrizione al canale non la prendete sotto gamba lo so che per voi è una cavolata ma per noi è importante perché vogliamo arrivare a diecimila iscritti certificati loro hanno già parecchiato tutto a proposito di questo discorso di Zang Zang ha dei problemi suoi sapete che a me non sta simpaticissimo Zang ha dei problemi suoi personali Agnelli stava per essere arrestato per dei problemi nella Juve nel calcio sono due cose totalmente diverse che il cinese c'ha i problemi suoi Agnelli Agnelli tende una mano si dimette e e comunque il GIP rimane sulla decisione di 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 ricettare la richiesta di arresto del PM quindi di cosa stiamo ragionando qui di cosa stiamo ragionando sentire gli juventini che attaccano gli interisti è uno schifo è gente senza dignità questa ma non tutti gli juventini sono mononeurone o dei dei pensanti c'è qualcuno che ha il buon senso di stare zitto capito qual è il discorso perché perché t'ho fatto questo preambolo perché hanno apparecchiato tutto arriveranno a quattro punti loro noi giocheremo contro scusate noi giocheremo contro la viola e loro saranno già avanti quattro punti quindi la classifica tra noi e loro disterà di quattro punti è un test psicologico importantissimo perché è questo che loro hanno architettato e che volevano fare da circa due mesi faccio arrivare allo scontro diretto prima dello scontro diretto in queste condizioni Firenze è un campo molto ma molto difficile lo sapete io sono nato lo posso dire tanto non ci abito più io sono nato in via alefanti gran parte della mia vita l'ho passata in via alefanti di alefanti nella zona campo di marte sotto appena sotto fiesole e io aprendo la finestra di camera mia vedevo praticamente la la curva perché io sono nato a 50 metri dallo stadio ho tanti amici a Firenze ci sono tante squadre mi stanno sull'anima la Fiorentina non è una di quelle per esempio ma per un discorso affettivo anche della città di Firenze io vivo molto meno rispetto a prima ma comunque è una città che vivo anche oggi ho tanti amici gente con cui ho giocato a calcio anche di un certo livello che è di Firenze tipo Francesco Flachi per esempio anche se non lo sento quasi più ormai Lorenzo Stovini 120 presenze in Serie A abbiamo giocato insieme per quattro anni Corradi no Corradi è di Siena non è di Firenze ragazzi occhio a dire Siena e Firenze è uguale perché non è uguale ma a parte quello andiamo in un campo difficile dove l'anno scorso purtroppo ci siamo rimasti male ma perché anche ci siamo rimasti male perché se vi ricordate se vi ricordate Lukaku sbagliò l'impossibile a Firenze e fumo scoffitti dalla viola quindi ci hanno un tecnico abbastanza bravo anche se ha troppi capisaldi ovvero sia italiano perché italiano io l'ho sempre detto anche ai miei amici della Firenze si è ostinato a giocare con Mandragora che è uno dei centromampisti secondo me peggiori della Serie A perché non eccelle nulla né in fase offensiva né in fase difensiva né in fase di possesso non ha tiro in porta ma Dragora è un giocatore che riesce solo a tenere un po' la posizione nulla di più da quando ha messo dentro Duncan Duncan che è nato nell'Inter le cose le sono cambiate la squadra va molto meglio quindi ecco davanti ci hanno Beltran che dura fatica a segnare ma secondo me quel ragazzo non è male avrebbe bisogno solo un po' più di fiducia non incominciare a segnare contro di noi Beltran non rompere i coglioni passa quella dopo e quindi è una partitaccia ci sarà lo stadio pieno sono già hanno già sono già ad oggi sono più di 30.000 persone eh quindi cercano di fare il pienone loro non ci possono vedere gli interisti non possono vedere tanto tanto i fiorentini c'è anche un po' di assio tra le tifoserie ora non so qua quanto perché io non sono dentro il tifone non è l'azzurro però so che c'è so che c'è un po' d'assio quindi ecco noi in Supercoppa facciamo un discorso riassuntivo noi in Supercoppa abbiamo stramazzato la Lazio e durato un po' di fatica con il Napoli anche se il Napoli non ha fatto nulla ha fatto anche in undici hanno fatto un tiro in porta in 60 minuti quando noi incontriamo le squadre che ti aggrediscono altre tipo la Lazio e quando ci esprimiamo meglio quando troviamo le squadre che si chiudono duriamo un po' di fatica anche perché quando trovi le squadre chiuse dovresti avere quella tipologia di giocatori che noi non sempre abbiamo tranne Turam quindi giocatori bravi ad agire nelle breve a fare gol sporchi cioè capito giocatori che hanno un tocco palla sopra la media soprattutto dovresti avere dei giocatori che hanno una reattività muscolare sopra la media ma soprattutto negli spazi stretti questo è un giocatore che tranne Turam all'Inter un po' manca lo era Sanchez e ora Sanchez lo fa un po' questo gioco ma lo fa molto meno quindi la Fiorentina per dirti cosa la Fiorentina lei è una squadra come la Lazio ti viene aggredire quindi ti lascia spazi a differenza del Napoli che non ti non cede spazi ripeto ai tifosi napoletani voi volete vincere le partite senza tirare in porta mi sembra difficile dovete tirare in porta per fare gol quindi indipendentemente dal fatto che giustamente siete rimasti in dieci perché ora cominciano a romperci coglioni anche i tifosi del Napoli pensa te dove siamo arrivati quindi ecco è un test fondamentale cioè da qui ragazzi passa un pezzo di scudetto da questa partita qui da Fiorentina Inter passa un pezzo di scudetto e a me quelli lì lassù primi la squadra non ha ricevuto un rigore contro non mi piacciono per nulla bisogna farli scendere subito perché faranno faranno in modo di farli rimanere primi il più possibile attenzione perché quando sono primi acquisiscono ancora più potere non li fanno scendere giù a questi non gli hanno fischiato un rigore contro ancora me lo dici di che cavolo stai ragionando ma di cosa ragioni in un girone d'andata una squadra che gioca in area nella propria area non prende un rigore contro ma siamo pazzi non serve un genio per capire c'è qualcosa che non va non gli fischiano difensori pittina cazzotti gli attaccanti non gli fischiano nulla in area ma di cosa ragioniamo spintori nulla non gli fischiano nulla e poi vengono a rompere i coglioni a noi soprattutto lì coso lì capello leccato quello lì che c'ha quei due spaghetti di capo lì pieni d'olio ma di cosa ragioni te ciao inter ciao ragazzi dai